La famosissima Marika Pellegrinelli perde le staffe, proprio lei decide di lanciare una velata ma severa frecciatina all'ammatissimo cantante, nonché suo ex marito, Eros Ramazzotti Ecco tutti i dettagli a riguardo, cosa è successo realmente e quali sono le parole della donna Questi ultimi mesi sono stati particolarmente complicati per entrambi, i due appunto hanno deciso di prendere strade del tutto diverse e nonostante il loro distacco i social media sono esplosi ad ogni loro singolo movimento Come ben saprete il noto cantante ha deciso inaspettatamente di tornare a creare un forte legame con una delle donne più importanti della sua vita Stiamo indubbiamente parlando della nota conduttrice Michelle Luntziker, la quale ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita del cantante Entrambi appunto dopo moltissimi anni dal loro divorzio sono apparsi nuovamente insieme con l'intento di riallacciare i rapporti in memoria del loro grande legame Il chiacchiericcio su entrambi quindi è aumentato ed appunto la nota ex moglie del cantante ha deciso di mettersi definitivamente da parte iniziando così una nuova relazione Le appunto attualmente è felicemente fidanzata con un altro noto volto nel mondo della musica Con il quale ha intrapreso un nuovo cammino e la loro relazione continua a procede a gonfie belle A differenza sua però il noto cantante è rimasto single, senza intraprendere alcuna conoscenza romantica Nelle ultime ora però le parole della donna non hanno lasciato dubbi Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta realmente e cosa è effettivamente successo fra i due Marika Pellegrinelli è semplice ma dura frecciatina nei confronti del suo ex compagno di vita Eros Ramazzotti Ecco tutti i dettagli a riguardo come vi abbiamo già anticipato negli ultimi gironi il chiacchiericcio che ormai da tempo circola sul loro conto è fortemente aumentato Nonostante questo però entrambi hanno intrapreso strade completamente diverse La nota Marika appunto attualmente è felicemente fidanzata con un noto DJ olandese In passato, durante un'intervista rilasciata al magazine F, aveva dichiarato Attualmente però, anche se entrambi fanno parte del mondo della musica, la donna si sente molto più tranquilla nel condividere la sua quotidianità con lui Appare appunto gioiosa e del tutto spensierata Nelle ultime ore infatti ha deciso di pubblicare un video girato da lei stessa che ritrae lei insieme al suo compagno Come descrizione ha inserito una frase apparentemente semplice e senza alcun significato specifico ma che in realtà potrebbe racchiudere una vera e propria frecciatina al suo ex marito Ovvero, fidanzatevi con qualcuno che vuole andare via dalle feste alla vostra stessa ora E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti